Allo stadio Quinto Ricci, il Pineto vince per 0-1 contro i padroni di casa dell'Aprilia, dopo un primo tempo a reti inviolate nella ripresa, Pepe a tempo scaduto, sblocca un match e vola sempre più in alto nella classifica play-off. Calcio d'inizio per gli ospiti, partono forti gli adriatici, assist illuminante di Minincleri, Romano non trova Minnozzi per questione di centimetri, si avventa Mastrippolito ma il numero 27 svirgola la conclusione, ancora i bianchezzurri premono, sempre Minincleri per Minnozzi, sventola una posizione irregolare, Mocci di Oristano, Paletti di Crema fa giocare e nel proseguo dell'azione Romano trova salvati in presa bassa, sempre i ragazzi di Pomante cercano il vantaggio. Su corner Minincleri, tiro cross con Bratelli che sfiora da posizione più che ghiotta e non riesce a impattare la sfera, l'Aprilia risponde a fine primo tempo, Luciani per Pesone, il numero 8 non inquadra il bersaglio grosso. Nella ripresa i Pontini si affacciano con la ghigna, Mercorelli blocca senza problemi, azione fotocopia dalla catena di sinistra, Succi di testa assorvora la traversa, la squadra del presidente Brocco non si lascia intimorire, Minincleri stoppa, prende la mira e conclude. Palla fuori di poco, il Pineto vuole il vantaggio, Romano furbo arriva tu per tu con Salvati che risponde egregiamente sul rimpallo, Mastrippolito conclude a botta sicura, i Pontini si salvano sulla linea a mettere a mani, millantano, un tocco di mano e un calcio di rigore. Botta in risposta dei bianco celesti, Bosi di controbalzo, pallone che si bilà sul fondo, la partita si accende, Mastrippolito, cross velenoso al centro e pallone che finisce tra le braccia di Salvati dopo una carambola. Dieci minuti dopo Luciani per questo fallo a centrocampo riceve il secondo giallo di giornata e lascia i suoi in dieci. I ragazzi di Galluzzo perdono la testa per questa gomitata di laghigna, i lazieri rimangono addirittura in nove uomini. Gli abruzzesi d'orgoglio vogliono la partita e l'intera posta. A due minuti dal termine Capitan Pepe si prende tutte le responsabilità del caso, conclude da fuori area e trova un aerogol sotto il diluvio. Non succede più nulla, il Pineto vince di misura per 0-1 contro una grande Aprilia e vola sempre più in alto nella classifica play-off.